Dopo il pareggio casalingo contro la capolista, la Pistoiese è tornata ad allenarsi in vista della trasferta a Como. Anche se nulla è cambiato per quanto riguarda la classifica, gli arancioni sono al tredicesimo posto, il punto raccolto con l'Alessandria ha dato più fiducia e serenità in un momento di cambiamenti. Quello della guida tecnica, quello del modulo di gioco e i giorni per assorbire il tutto sono stati davvero pochi. Adesso Azzori avrà più tempo a disposizione per preparare al meglio la sfida di sabato, per conoscere meglio le sue pedine e così anche i giocatori potranno allinearsi alle visioni dell'allenatore di Colle Pardo. In occasione della gara contro i grigi è tornato in campo dal primo minuto Francesco Colombini, che avrebbe potuto anche festeggiare il gol se questo non gli fosse stato annullato, lasciando ancora tanti dubbi al difensore e non solo a lui. Bellazzini ha battuto una gran punizione, ci eravamo già messi d'accordo prima della partita perché siamo sempre insieme, e lui siamo di Pisa, tutte e due, quindi si guarda sempre e mi aveva detto di andare sempre in anticipo. Io ho provato anche quella punizione lì, me l'ha messa sulla testa, l'ho spizzicata, ho fatto go, ho svegliato verso il guardaline e ha avaltato la bandierina. Ho parlato dopo con l'abito e ha detto che, dice che Colombo era partito a un fuori luogo, però era ininfluente al fine dell'azione, quindi non si sa bene cosa gli è passato per la testa al guardaline, però si accetta tutto, abbiamo fatto un buon risultato contro una squadra che non è nemmeno da questa categoria, a mio parere, tutto è guadagnato. Vista la settimana dalla quale venivate è un pareggio che vale quanto una vittoria? Sì, vale come una vittoria perché il mister è stato bravo a farci compattare dopo la batosta che abbiamo subito in questa settimana perché perso a Piacenza, poi è andato via il mister fra settimane, è stato molto bravo a tenerci compatti, quindi un elogio anche a lui. Guardare avanti, in via delle Olimpiadi non c'è tempo per i sé e per i ma, c'è solo la voglia di lavorare e pensare a studiare bene come poter fare il colpaccio a Como. Como, da scena già parlato il mister, è una squadra molto granitica, diciamo. Giocano bene, hanno due punte molto forti e hanno un gran gioco, quindi dobbiamo stare attenti soprattutto alla fase difensiva, non prendere go perché è la cosa più importante e poi con la qualità che abbiamo davanti sicuramente qualcosa ci inventiamo.